cari amici e cari amiche di total photoshop ben trovati in questa nuova puntata con la nostra tutorial tv io sono la cri e da quest'oggi siamo in compagnia con il buon photoshop ci occupiamo in questa puntata di contrasto ovvero di un percorso che possiamo seguire per attribuire maggior contrasto maggior nitidezza e definizione alle nostre immagini e lo facciamo utilizzando i canali ma vando alle ciance entriamo subito nel vivo di questa nuova puntata eccoci qua davanti a una bellissima foto scattata dal nostro max e immediatamente potete notare che mi sono aperta anche il pannellino dei canali proprio perché adesso andremo semplicemente a scorrere lì sono i canali di rosso verde blu quelli classici dell'rgb dello scatto fotografico e andiamo a definire il canale che ha maggior contrasto in questo caso il blu è proprio quello che fa al caso nostro lo duplico in modo da avere a disposizione un canale alfa per duplicarlo lo trascino semplicemente sulla sua iconcina eccolo qua si chiama blu copia ma posso tranquillamente definirlo contrasto e quindi cambiargli il nome voilà il canale ora lo abbiamo dobbiamo attribuirgli un filtro per fare in modo di ottenere una maschera per la nostra immagine sì i canali sono ovviamente le immagini in scala di grigio di ciascun riferimento colore della nostra immagine in questo caso noi abbiamo preso il canale del blu e su ciascun canale possiamo attribuire filtri possiamo andare a modificare possiamo andare a regolare anche i contrasti con gli strumenti di regolazione che photoshop ci mette a disposizione sono effettivamente un metodo un mezzo anche molto divertente per poter intervenire sulle nostre immagini nello specifico oggi gli attribuiamo un filtro che non viene spesso utilizzato noi andremo a tracciare i bordi di questa immagine sì proprio perché poi ci servirà per realizzare la maschera del contrasto della nostra fotografia in modo da non essere troppo invasivi sull'immagine stessa ma vediamo come selezionato il nostro canale andiamo quindi nel menu filtro andiamo alla voce stilizzazione e scegliamo la voce trova bordi immediatamente in bianco e nero ecco che vengono tracciati i bordi della nostra immagine come vi ho detto prima possiamo tranquillamente andare a attribuire anche delle regolazioni ecco perché attraverso la scorciatoia da tastiera command l apriamo il pannello dei valori tonali e muovendo il cursore dei grigi ecco che possiamo tranquillamente attenuare i grigi per dare maggior spazio ai bianchi e ai nieri molto bene diamo un bello ok vi ho detto che ci serve per realizzare una maschera quindi semplicemente dobbiamo ora solo invertire le tonalità di questo canale ovvero è un po' come se adesso avessimo un disegno tracciato nero su un fondo bianco ma sappiamo bene che le maschere che ragionano in bianco e nero esattamente come questi canali attraverso il nero nascondono e attraverso il bianco mostrano quindi invertiamo ora questo questo colore lo facciamo sempre attraverso una scorciatoia da tastiera che è command i voilà abbiamo un bel disegno bianco su sfondo nero benissimo riattiviamo la visualizzazione in rgb andiamo sul nostro livello e command j lo duplichiamo perché perché ora andremo attraverso il menu filtro alla voce nitidezza scegliamo la voce nitidezza avanzata e andiamo a regolare appunto la nitidezza di questa immagine possiamo tranquillamente muovere i cursori del fattore quindi del raggio quindi l'estensione della nostra del nostro contrasto vedete che più aumenta il raggio e più aumenta l'azione proprio il numero dei pixel che vengono presi in considerazione per questa modifica quindi direi di scendere leggermente con il raggio e di ridurre anche il disturbo un po meno in modo che si veda la grana molto bene diamo un bel ok ed ecco la nostra modifica voilà vedete però come è invasiva nei confronti della nostra fotografia ecco perché andiamo a selezionare ancora una volta attraverso una scorciatoia da tastiera quindi con il tasto command o control se lavorate su un pc vedete anzi voi vedrete sulla vostra macchina cambiare l'aspetto del cursore nel momento in cui ci spostiamo sopra il canale alfa e con un semplice click carichiamo la selezione ora che abbiamo tutte le formichine quindi la selezione attiva del nostro canale non facciamo altro che creare con un semplice click la maschera sul livello del contrasto quindi selezioniamo il livello del contrasto e con un click sull'icona che mi genera la maschera voilà ecco che abbiamo attribuito questa stessa maschera adesso un attimo a dare un po più di spazio alla pannello dei livelli ecco che l'abbiamo resa leggermente meno invasiva della maschera completa vedete che disattivandola appunto si nota la differenza non solo possiamo decidere di abbassarne comunque l'opacità e perché no anche di cambiarne il metodo di fusione quindi anziché un metodo normale le attribuiamo un metodo di luminosità in modo da intaccare il meno possibile l'aberrazione cromatica data appunto dal contrasto ecco qua il prima e il dopo e grazie al canale alfa e a filtro trovabordi abbiamo dato maggior nitidezza e contrasto a questa splendida immagine questo è un sistema che possiamo utilizzare in diverse tipologie di fotografie ad esempio fotografie che riguardano l'architettura o perché no nelle macro quando dobbiamo definire particolarità che sono ingrandite magari in maniera spropositata è comunque un percorso che ci aiuta ci insegna a sfruttare i filtri magari attribuendoli appunto ai canali come abbiamo visto insomma tutti gli strumenti e i percorsi che photoshop ci mette a disposizione per raggiungere il nostro obiettivo non mi resta ora che augurarvi buon divertimento con photoshop vi ricordo di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter e di comunicare con noi attraverso tutti i social network i click li trovate qua sotto ciao a tutti e alla prossima dracri